Sto facendo un cardigan allegaccio con onde colorate a ferri accorciati e vorrei raccontare come costruito e come fare le onde, che sono belle sia lavorate a più colori o con filati sfumati, sia in tinta unita, perché anche se non abbiamo giochi di colori, si forma una bella struttura. Ora la maglia è ancora un po' raggrinzita, ma una volta lavata si distenderà. L'idea è questa. Siccome ho due filati, uno dei quali è sfumato, se lavorassi tre pezzi separati da cucire, mi sarebbe difficile far combaciare le sfumature. E allora lavoro fino all'altezza dell'ascella tutto insieme come un pezzo unico, metà davanti, schiena e l'altra metà del davanti. Solo all'altezza dell'ascella separo il lavoro, chiudo alcune maglie per creare gli scalfi e finisco quel poco che rimane separatamente. Perciò ho avviato un numero di maglie che corrisponde alla circonferenza petto, per esempio per la taglia 40, 40 per la schiena e 20 e 20 per le due metà del davanti. Per la verità esattamente la metà per il davanti sarebbe poco, perché la maglia poi non si chiuderebbe sul petto. Però voglio creare uno scollo a V profondo da rifinire poi con un collo a scialle. Farò non solo il collo in sé, ma anche un bordino. Ed ecco che i due bordini si sovrappongono, si possono fare asole bottoni o anche no, e potremo chiudere il nostro capo sul davanti. A seconda della lunghezza desiderata, dal fondo fino all'ascella si possono lavorare da 40-50 cm e cominciare le diminuzioni per lo scollo a V quando abbiamo fatto 25-35 cm. Poi l'altezza dello scalfo, chiaramente dipende dalle nostre misure, idem la larghezza della spalla, la mia per esempio la lascio di 12 cm. Per gli scalfi da entrambi i lati intreccerò 7 maglie in più riprese. Prima 3, poi 2, poi 1 e 1. Quante maglie intrecciare dipende dalla profondità dello scalfo desiderata e dal nostro filato. Più è sottile, più maglie dobbiamo fare. Il mio è 400 metri in 100 grammi e sto lavorando con i ferri numero 4. Ogni quanti ferri fare le diminuzioni per lo scollo a V. Dico subito che io le farò ogni 8 ferri, ma possiamo ricavare anche una formulina. Partiamo da X maglie. Consideriamo che Y maglie le chiuderemo per lo scalfo. Quindi ci rimarranno già X-Y maglie. Z maglie dobbiamo tenerle per la spalla. Quindi X-Y-Z che devono rimanere uguale B. Questo è il numero di maglie da diminuire. Le dobbiamo diminuire su un tot ferri che andremo a lavorare. Chiamiamolo A. A, il numero di ferri da lavorare, diviso B, il numero delle maglie da diminuire, ci dice ogni quanti ferri dobbiamo fare le diminuzioni. Chiaramente se viene fuori un numero frazionato, lo arrotondiamo e poi facciamo le opportune correzioni. Per esempio, il mio numero di maglie è 52. Chiuderò 7 maglie per gli scalfi, per lo scalfo. Mi devono rimanere 30 maglie per la spalla. 52, meno 7, meno 30. Devo diminuire 15 maglie. Prevedo, in base al mio campione, in base anche al pezzo che ho già lavorato, che mi dà anche i dati più precisi, so che andrò a lavorare più o meno 120 ferri. 120 ferri diviso 15 magli da diminuire, farò le diminuzioni ogni 8 ferri. Giusto un accenno a come penso di rifinire poi lo scollo, ma non è l'argomento di questo video. Finito e cucito tutto, riprendo le maglie lungo il bordo, schiena e l'altro bordo, e lavoro andando avanti e indietro, da fondo a fondo, a coste, fino alla larghezza del bordo desiderata, eventualmente con le asole. Poi mi fermo nel punto in cui comincia lo scollo a U e comincio a lavorare sempre meno maglie. Mi fermo di volta in volta, per esempio, a 6 maglie, dal punto in cui ho girato il lavoro la volta precedente. Eventualmente faccio le manovre per non lasciare buchi, cioè diventa una lavorazione a ferri accorciati. In alternativa, di volta in volta, si può arrivare al punto precedente, intrecciare le maglie, e così man mano le maglie si chiudono. Altrimenti se abbiamo lavorato a ferri accorciati, poi facciamo un giro di pareggio e intrecciamo le maglie tutte insieme. Ho fatto un fondo a legaccio e con questo filo continuo a lavorare a legaccio. Tra un'onda e l'altra faccio 6 ferri che le separano. Invece le onde sono lavorate con un altro filo a maglia rasata, così vengono messe più in risalto. Si formano solo sul davanti, mentre la schiena risulta a strisce. Per non far cedere il legaccio, lungo i fianchi ho creato una finta cucitura. Perciò l'ultima maglia del davanti da questo lato e la prima dall'altro lato, la lavoro sempre a maglia rasata rovescia. Le onde si formano così. Divido ognuna delle due metà in più parti. Più sottile è il filo, in più parti conviene dividere per avere un effetto che si vede. Io ho fatto un, due, tre, quattro parti. Questo è il fianco. Girerò il lavoro in tre punti. Li segno. Quando facciamo la divisione delle maglie è importante non confonderci tra le volte e le parti, perché le parti in cui dividere sono sempre una in più rispetto alle volte, perché c'è un, due, tre e poi la parte finale. Se devo girare il lavoro cinque volte, devo dividere le mie maglie per sé. Segnati questi punti, costruisco questa onda. Partendo dal bordo, arrivo nel punto più lontano, giro il lavoro e torno indietro. Poi mi fermo un po' più vicino al bordo e torno indietro. Ancora più vicino e torno indietro. Girate tutte le volte che ho programmato, partendo dal bordo, partendo dal bordo, attraverso tutti i miei punti in cui ho girato il lavoro, il fianco, faccio la schiena e arrivo al bordo opposto. Qui, a questo punto, lavorerò sul rovescio del lavoro. Mi porto, anche qua, in modo analogo, nel punto più lontano dal bordo. Giro e torno indietro. Nel punto un po' più vicino e torno indietro. Ancora più vicino, torno indietro e poi, riattraversando di nuovo tutta la maglia, torno al punto di partenza. A questo punto, mi sono cresciuti queste due estremità, mentre qua la maglia rimarrà più bassa. Devo controbilanciarlo, altrimenti mi cresce un lato e non l'altro. Posso farlo subito o, come ho fatto io, inserire alcuni ferri in mezzo. Per controbilanciare questa onda, parto sempre da questo bordo, ma stavolta mi porto quasi alla fine, quasi al bordo opposto, ma non alla fine, mi fermo qua. Giro il lavoro, torno indietro attraverso la schiena e arrivo in questo punto. Giro di nuovo e mi fermo nel punto un po' più lontano dal bordo e più lontano dal bordo e poi ancora più lontano e ancora più lontano, torno indietro e solo adesso arrivo, riattraverso tutti i punti in cui avevo girato e arrivo alla fine e poi torno al punto di partenza. Dopodiché riparto. Per non lasciare buchi quando giriamo il lavoro si può usare il metodo preferito alla tedesca, bulge e gira, maglia ombra, ma io qua ho preso due piccioni con una fava perché oltre a lavorare le onde a maglia rasata le ho abbellite con un punto traforato dove a un ferro le maglie si lavorano a due a due, io ho lavorato due insieme a rovescio e al ferro successivo si ripristina il numero delle maglie con gli aumenti barrati. Ebbene, le maglie lavorate insieme le faccio capitare a cavallo tra le due sezioni e così il buco si chiude automaticamente. Cioè, lavorerò queste due maglie insieme, queste due maglie insieme, il buco si chiude, queste due insieme e così via. per poter fare questo giochetto quando divido il numero delle maglie visto che non voglio partire con i trafori fin dal bordo ma tra la maglia di vivagno e le maglie lavorate insieme voglio sempre lavorare almeno una maglia ogni sezione mi conviene che sia composta da un numero di maglie pari. Così si sfasa tutto e le mie maglie lavorate insieme in questo punto capitano tra una sezione e l'altra. Le mie maglie erano in partenza 52 adesso sono meno perché ho cominciato a fare le diminuzioni per lo scollo erano 52 diviso 4 mi dava 13 e allora ho fatto 14 12 12 e 12 ma in questo momento con le diminuzioni questa sezione è composta da 8 maglie in pratica partendo dall'inizio arrivo al punto più lontano dal bordo maglie di vivagno vado fino all'ultimo marca punti qui chi non vuole usare il mio espediente di lavorare le maglie insieme e creare un elemento decorativo ed evitare buchi userà la tecnica preferita per non lasciare buchi io giro il lavoro la prima maglia la passo con il filo davanti e torno indietro verso il bordo lavorando tutto a rovescio tornata al bordo dato che lavoro con due fili per non lasciare indietro l'altro filo li avvolgo uno attorno all'altro girando in questo verso giro e lavoro la maglia di vivagno con il filo che sto usando e visto che ho girato i fili così ora la maglia la giro nel verso contrario ognuno può fare come preferisce ma a me questa tecnica piace perché così i fili non si ingarbugliano a questo punto vado di nuovo avanti e arrivo al secondo marca punti giro il lavoro passo la prima maglia e torno al bordo lavorando a rovescio perché ho deciso di lavorare le onde a maglia rasata un consiglio nel punto in cui gireremo il lavoro la volta successiva conviene lavorare le maglie più strette io faccio l'ultimo passaggio mi fermo nel punto più vicino al bordo incrocerò poi di nuovo i fili rieccomi sul diritto ed ecco la mia ondina ora devo fare la stessa ondina dall'altra parte perciò ci vado e chi non vuole fare il mio punto traforato e ha fatto le manovre antibuco prosegue senza niente di particolare io invece faccio la maglia di divagno non voglio lavorare le maglie due insieme a partire dal bordo perciò la prima maglia la lavoro e la lavoro a rovescio perché per un effetto decorativo ho deciso di lavorare due insieme a rovescio e quindi per tutto il resto dell'onda faccio due insieme a rovescio due insieme a rovescio due insieme a rovescio ed ecco quello di cui parlavo devo fare due insieme a rovescio e una maglia appartiene alla prima sezione e la seconda alla seconda torna a casa messi sposto il marca punti unisco queste maglie e le lavoro insieme a rovescio ecco che non c'è nessun buco e di nuovo nel frattempo mi controllo questa sezione è composta da 12 maglie quindi devo fare 6 volte due insieme a rovescio 1 2 3 4 5 e 6 il sesto 2 insieme a rovescio capita tra le due sezioni e lavora queste due maglie insieme e l'ultima 2 insieme a rovescio 1 2 insieme a rovescio 2 2 insieme a rovescio 3 2 insieme a rovescio 4 2 insieme a rovescio 5 e qua lavoro l'ultima maglia dell'onda con la prima maglia dell'ultima sezione dove l'onda non c'è 2 insieme a rovescio per l'ultima volta e ora mi porto all'altro bordo lavorando a diritto l'unico accorgimento è che come dicevo per creare la finta cucitura l'ultima maglia di questa metà del davanti la devo lavorare a rovescio idem la prima maglia dell'altra metà del davanti ho attraversato la schiena il fianco mi sono ricordate di lavorare questa maglia a rovescio devo arrivare fino alla fine e poi girerò il lavoro in questo punto perciò queste maglie le lavoro un po' più strette meno sono lasche meglio da questo lato non ho nemmeno l'impiccio dell'altro filo quindi fatta la maglia di vivagno giro e lavoro e lavorando a rovescio mi porto qui mi fermo nel punto più lontano dal bordo giro e lavoro ora sono sul diritto quindi la prima maglia la passo con il filo dietro e torno al bordo più strette le maglie qua perché è qua che giro il lavoro la prossima volta giro il lavoro e torno stavolta nel secondo punto giro passo col filo dietro lavorando a diritto torno al bordo giro e finalmente mi fermo più vicino al bordo ripeto che chi non fa le due maglie come me le due maglie insieme qua non deve dimenticare la manovra antibuco ed ecco che ho creato la stessa onda anche dall'altra parte e qua abbiamo i nostri buconi che non mi preoccupano minimamente perché ora le chiuderò lavorando due maglie insieme solo che qua sono sul rovescio del lavoro e per ottenere lo stesso effetto di due insieme a rovescio sul diritto del lavoro ora devo lavorare al contrario quindi la prima maglia per distanziare i trafori dal bordo la lavoro a diritto e poi due insieme a diritto 1 due insieme a diritto 2 due insieme a diritto 3 e due insieme a diritto 4 perché questa sezione per via delle diminuzioni che ho fatto per lo scollo av ora è composta da 8 maglie le altre due saranno composte da 12 maglie quindi farò per ciascuna 6 volte due insieme a diritto e l'ultima due insieme mi deve capitare sempre a cavallo tra le due sezioni se così non fosse vuol dire che c'è qualcosa che non va magari mentre giravo il lavoro mi è scappata una maglia sarebbe una cosa grave quindi bisogna chiarire perché i conti non tornano e alla fine lavoro l'ultima maglia dell'onda insieme alla prima maglia della sezione libera diciamo e torno indietro all'altro bordo lavorando tutto a rovescio visto che ho deciso di lavorare le onde a maglia rasata potrebbe venire la tentazione per esempio questo è un altro accorgimento potrebbe venire la tentazione di lavorare per esempio comunque tutta la schiena a legaccio però siccome il legaccio cresce meno in altezza rispetto alla maglia rasata una volta lo possiamo fare infatti io qua per imbrogliare un po' per variegare un po' ho fatto un ritorno a legaccio ma farlo sistematicamente ci farebbe crescere la schiena meno del davanti quindi è meglio non abusarne quando sto per tornare al punto di partenza mi ricordo che in queste tre sezioni avevo lavorato le maglie a due a due e avevo preso una maglia che ho lavorato insieme a questa anche alla sezione vicina al fianco e il resto era rimasto tale e quale perciò qua lavoro le maglie così come sono un due tre tredici e la quattordicesima manca perché l'avevo lavorata insieme qua faccio l'aumento barrato quindi lavoro questa maglia due volte una volta presa da davanti e questa maglia appartiene a questa sezione rimetto il marca punti qua e una seconda volta presa da dietro uno qua faccio la stessa cosa due e tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici e la dodicesima l'avevo lavorata insieme a quella della sezione precedente quindi dodici il marca punti torna al suo posto e uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici ho ripristinato le dodici maglie e qua devo averne otto quindi una due tre quattro cinque sei sette e otto questa maglia l'avevo lavorata semplicemente da sola senza fare diminuzioni senza lavorare due insieme ora per passare all'altro filo perché con questa onda ho finito giro i fili in questo modo è nuovo di qua di qua lavoro la maglia di vivagno con il nuovo filo e visto che avevo girato le maglie e in questo i fili in questo verso ora giro la maglia nel verso opposto due volte è così i fili non si imbrogliano ora faccio i miei sei ferri a legaccio con l'altro colore e non dimentico di lavorare gli aumenti barrati dall'altra parte laddove avevo lavorato le maglie a due a due cioè tutto allo stesso modo la sezione vicino al bordo tutte le maglie così come sono e l'ultima mi viene da qui rimetto il marca ponti e poi le altre maglie le lavoro con gli aumenti barrati tranne l'ultima maglia prima della maglia di vivagno che non avevo lavorato insieme ad un'altra ora per costruire la controonda come questa parto dall'inizio e arrivo al punto più vicino al bordo opposto qui senza arrivare al bordo mi fermo giro il lavoro e torno indietro in questa fase non toccherò i bordi solo all'inizio e alla fine qui giro e torno nel punto centrale dall'altro lato questi passaggi sono tutti uguali non li faccio vedere per l'ennesima volta nel punto centrale del lato opposto giro il lavoro e torno nel punto centrale del lato di partenza poi mi fermo nel punto più vicino al fianco del lato opposto e torno nel punto più vicino al fianco del lato di partenza girato il lavoro per l'ultima volta nel punto più vicino al fianco della parte destra quella da cui inizio sempre ecco che mi porto finalmente fino in fondo superata la schiena mi ricordo di fare due insieme per creare un elemento decorativo e mascherare i buchi lavoro quindi a rovescio la maglia della finta cucitura e poi due insieme a rovescio due insieme a rovescio due insieme a rovescio tre due insieme a rovescio quattro due insieme a rovescio cinque due insieme a rovescio sei e il settimo e a cavallo tra due sezioni se qualcuno ha cambiato idea in corso d'opera e ha lasciato questi buchi ma non vuole più fare due insieme poco male si può usare l'espediente di catboardi che ho usato nel calzino sweet tomato prendiamo la maglia del ferro precedente la tiriamo sul ferro e lavoriamo queste due maglie insieme così le maglie si avvicinano e il buco si riduce non si vede quasi per niente questo è così strada facendo mi è venuto in mente ma io procedo per la mia strada e quindi lavoro tutte le maglie dell'onda a 2 a 2 2 insieme a rovescio lavoro insieme rovescio la maglia dell'ultima sezione con la prima maglia della sezione libera a proposito qua lavoro poi questo tratto a legaccio quindi questa maglia la dovrei lavorare a diritto però può essere utile per richiamare ancora questo rovescio lavorare questa prima maglia a rovescio come più ci piace finisco di lavorare questa sezione arrivo fino in fondo giro il lavoro 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 queste maglie a legaccio perché non fanno parte dell'onda e qua come prima ripristino il numero delle maglie cioè lavoro ogni maglia due volte e mi ricordo che la prima appartiene alla sezione precedente e la seconda alla sezione successiva lavoro tutte le maglie dell'onda quelle che mi risultano dalla lavorazione di due maglie insieme con gli aumenti barrati prima da davanti e poi da dietro finisco quindi così tutta l'onda fino al fianco questa maglia la lavoro semplicemente a diritto perché non è stata lavorata insieme ad un'altra e mi costituisce la finta cucitura e vado attraversando la schiena dall'altra parte da questo lato faccio la cosa analoga a diritto alla maglia che mi fa da finta cucitura e tutto il resto dell'onda come due insieme solo che ora mi trovo sul rovescio del lavoro e per ottenere lo stesso effetto lavoro due insieme a diritto come al solito l'ultima maglia dell'onda insieme alla prima maglia dell'ultima sezione lavoro il resto a diritto ora cambio il filo faccio vedere ancora giro il nuovo filo da questa parte lavoro con il nuovo filo la maglia di bagno e visto che l'ho girato di qua la maglia la giro nell'altro verso la maglia ormai è tanta e davanti alla videocamera sono scomoda questo con questo nuovo filo lavoro i miei ferri a legaccia la prima sezione che non avevo lavorato con le diminuzioni con due maglie insieme la lavoro tal quale e poi ripristino il numero delle maglie non avevo parlato delle diminuzioni per lo scollo a v cioè avevo detto che io le faccio ogni otto ferri e se la mia diminuzione mi capita per esempio nella sezione a legaccio io la faccio quando sono sul rovescio del lavoro lavoro queste due maglie insieme a diritto e praticamente qua non si vede se invece devo farla proprio nel momento in cui sto ripristinando il numero delle maglie con gli aumenti barrati o se mi capita al ferro precedente o al ferro successivo approfitto di questo momento per fare la diminuzione senza farla e cioè non faccio la diminuzione ma tralascio anche un aumento se in questa maglia devo fare l'aumento ma allo stesso tempo devo fare la diminuzione non faccio né uno né l'altro e quindi mi viene a mancare una maglia è come se avessi fatto la diminuzione bene con tutte queste onde a qualcuno sarà venuto il mal di mare o il mal di testa anche perché l'ho fatto vedere su una maglia vera grande e combinando due lavorazioni gli inserti colorati a ferri accorciati e queste righine traforate decorative che allo stesso tempo permettono di mascherare i buchi chi lo fa per la prima volta è meglio che si impratichisca su un campione prima di lanciarsi nella lavorazione di un capo intero magari all'inizio senza queste maglie lavorate insieme si può girare il lavoro usando il metodo abituale per evitare i buchi e successivamente fare anche questo volendo chiaramente questo non è l'unico metodo le onde così fatte hanno le punte disposte in un certo modo se le vogliamo rivolte all'insù o dritte bisogna fermarsi e girare il lavoro in punti diversi però per ora basta così magari un'altra volta